allora buongiorno a tutti benvenuti nel mio canale nuovo nuovissimo perché faccio un canale non lo so per ridere per scherzare perché faccio delle limitazioni e qualcuno mi ha consigliato di intrattenere la gente magari regalando un sorriso abbiamo già un ospite qua non ho gli occhiali non ha gli occhiali però l'opite sono io buongiorno a tutti sono maurizio maurizio costanzo come vedete abbiamo il calendario qua dietro di plate indovino se indovinate il nome vincete un bacio non da lui ma da me insomma ma invece abbiamo il calendario di suor germana che di mestiere fa la suora appunto e noi abbiamo un ospite speciale qui si chiama daniel è un ragazzo giovane daniel dal nome viene dal trentino alto adice no mi sembra di capire daniel che hai un accento un po strano però devo dire che si è ambientato molto bene come fanno invece tanti di boltano che non parlano bene l'italiano ecco daniel è lui daniel che viene da boltano ecco e niente così per salutarvi voi vi chiederete ma farò solo imitazioni di costanza giusto farei solo imitazioni di costanza e no faccio altre imitazioni ma piano piano metteremo le cose a posto dai adesso vi devo salutare perché ho qua i bucadini è una matriciana non ve li faccio vedere perché sono un oltraggio a quelli di amatrice a cui va un mio caloroso saluto arrivederci a tutti a presto